che il video qui e sarà piuttosto scurti ma non perché Gaby ha poche cose di dire, anzi dovrei dire tante cose ma perché vuoi dire che se vado avanti troppo dopo mi viene il magone e volevo ricordare Alessandro Sandro Ricci che ci ha lasciato ieri e domani riceverà l'estremo saluto nella chiesa di Lugnano tanti lo ricorderanno, tanti lo ricordano ha lasciato come tante persone come lui che si sono andate a fare per gli altri ha lasciato un vuoto come si vuol dire e non è modo di dire però e però quando per me e per noi è stato l'allenatore gli nostri ragazzi del mio bagaglio anche di Alther e non solo allenatore lui con altri naturalmente non solo allenatore è stato anche educatore all'educatore che insegna a giocare al ballon ma che insegna anche la rispetta di Alther di insegnare il valore della vita e con me e con altri che seguivamo il percorso dei preadolescenti è stato anche un ottimo riferimento abbiamo veramente collaborato per cercare di fare un'opera educativa insieme per far capire ai ragazzi che fede e vita non sono distaccate sono tutt'uno che si può giocare bene al ballon e vuole bene al signore che si può cercare di vincere la partita ma specialmente vincere la partita della bontà con di Alther ecco siccome si arriva al limite nel senso che se vuoi attiacchiamo un po' dopo i pienti lì Sandro ti saluti resta un piacere con il russetto ricordo di nuovo ciao ciao